ebbene cominciato febbraio inevitabilmente abbiamo cominciato anche a esprimere lusinghe nei confronti del corridore numero uno del movimento che è partito davvero a grande se le statistiche i numeri non non mi fregano e non mi ingannano diciamo che su sei prove ne ha 24 però è il suo condottiero dell'ammiraglia lo abbiamo qui e vogliamo toglierci anche qualche curiosità la prima delle quali è se mi conferma o meno questa statistica che ho appena posto ebbene lo ringraziamo per essere qui con noi questa sera manuele mori manuele buonasera buonasera manuele buonasera a tutti piacere di essere qua presente stasera è il piacere nostro e diciamo a casa ancora per poco vero ti vedo già in me e mimetica si direbbe in ambiente militare domani mattina già ripartiamo nuovamente andremo l'omelop e con due secondi e prime diciamo le due prime due classiche d'approccio a alle prime diciamo a classiche del nord allora manuele intanto mi confermi questi dati che ho detto sei corse da parte di Tadei quattro vittorie sì sei corse quattro vittorie per la precisione cinque perché con la classifica generale se mettiamo la classifica generale quindi quasi bottino a un plane se così dire ecco e qui entreremo anche nel merito per quanto riguarda un ruolo importante di chi lo dirige dall'ammiraglia allora prima una parentesi tu seguirai dunque questa trasferta in belgio ti tratterai in belgio anche dopo l'omelop oppure tornerai e per per strade bianche qui tante occasioni ma è sì quest'anno vado solo in belgio vado più a dare una mano a marcato perché comunque la prima parte del belgio non è belgio non è proprio adatta alle mie caratteristiche conoscenze l'omelop e cornu books alcuno fatto solamente una volta in vita mia quindi normalmente queste gare vanno su come direttore sportivi marcato e baldato però baldato essendo impegnato nella trasferta in emirati è in casa e quindi andrò più a dare una mano a marco in questo io guiderò e lui parlerà dalla macchina in queste gare sempre meglio essere più di un direttore perché comunque sono gare impegnative molto pericolose e difficili nella gestione quindi farò solo questo dei gare poi rientrerò il mio programma quest'anno non prevede dopo tre anni di fila con l'anno scorso che abbiamo vinto a strade bianche tirreno che ero presente un altro programma andò in catalunia siamo in tanti direttori quindi ci dividiamo ognuno i propri compiti comunque ogni gare che andremo a fare per noi sono importanti quindi dispiace non essere nella gara di casa però me la guarderò in tv me la guarderò tutta forse forse ancora meglio che dalla macchina si e forse un po più di rilassatezza però emanuele che dire raccontiamo subito il passato il passato ovviamente recentissimo poca già debutta in questa strade bianche spagnola questa saen paraiso interior tutti la chiamano poi saen semplicemente e vince e vince un po nella stesso modo con cui si aggiudicò strade bianche dell'edizione 2022 ma da tecnico ti parlo la domanda è posta al tecnico ti aspettavi già un tadei così in gran forma ma è sicuramente tadei non scopriamo oggi sappiamo benissimo che delle gare doveva correre lui lui vuole essere sempre protagonista è partito se così si può dire più tranquillo non andando nella nella gara di casa però questo non ha messo diciamo non ha cambiato di una virgola la sua approccia alle gare lui doveva piace far bene piace dare spettacolo e si è presentato c'è un forma da lei questo è già dalla prima gara can voleva già dimostrare di provarsi mettersi alla prova e il suo mettersi alla prova e questo abbiamo siamo andati due giorni prima abbiamo fatto una piccola ricognizione abbiamo capito abbiamo guardato l'ultima parte del percorso con la più impegnativa e già lì lui ha deciso da dove già dove voleva attaccare quindi tadei è un po questo ha detto provo qua provo le mie sensazioni vediamo dove arrivo è arrivata l'arrivo da di fuori sembra facile non è proprio così però che lui fa di un fa fa sembrare tutto facile ciò che per la maggior parte pensa del 99 per cento delle persone difficile insomma allora due chiarimenti uno un po un po grottesco così sullo scherzo il primo invece quando hai parlato di gara di casa parli gara di casa per il team da woeme e due tour certo per noi la gara di casa penso la gara più importante per noi insieme al tour sono le due gare insomma dove la stagione diciamo per noi sono gli obiettivi primari tutta la stagione senza togliere niente agli altri gara insomma e senti c'è raccontato un pochino l'esperienza del debutto di tadei verrebbe un po da dire l'esperienza di manuele mori è stata un po come quella che durante il pomeriggio lavora e poi legge i risultati della tappa del giro d'italia o del tour france e va a casa al videoregistratore perde metà 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 gusto per tra si rospense perché sa già il risultato quindi un pochino quello che è successo a te quando tadei ha detto attaccherò qui e dice allora va bene diciamo così siano sono cose un po programmate ne abbiamo discusso insieme eravamo la io e altman due direttori in due ne abbiamo un po parlato da dei espresso la sua volontà e quindi abbiamo cercato un po di di assecondarla cercando di mettere la gara nel modo giusto per arrivare nel punto dove chiedeva tadei di provare insomma l'attacco insomma tutto qua certo io ho voluto consentimi anche un pochino banalizzare così per per veramente per stemperare questa questa superiorità che davvero è disarmante una superiorità di cui torneremo a parlare prestissimo concedi soltanto qualche secondo ai nostri partner commerciale e commerciale manuele che c'è a secondo questa esperienza gioielleria tabarrani specializzata in creazioni di gioielli esclusivi con diamanti rubini smeraldi zaffiri e acque marine offre anche le migliori marche di orologi meccanici e tecnologici anche di secondo polso per realizzare i tuoi desideri gioielleria tabarrani a camaiore tabarrani.it un paio di magliette infradito e un pareo il posto giusto delle vacanze della mia bici dalla bici alla brace locandailboschetto.com immergeti con Dario Pieri e la sua famiglia nella tranquillità della campagna toscana cara agli etruschi troverai i sapori incomparabili della cucina tipica toscana accompagnata dai migliori vini a contatto con i profumi di un territorio dove le dolci colline che uniscono siena e san gimignano a volterra calano poi verso il mare a contatto con una natura splendida incontaminata locandailboschetto.com un'ospitalità estesa anche agli amici a quattro zampe camere accoglienti dotate di televisore e bagno con doccia locandailboschetto.com è a volterra sulla statale 68 al chilometro 49 50 in località spicchiaiola locandailboschetto Dario Pieri e la sua famiglia ti aspettano e allora torniamo a intervistare il direttore sportivo del team Uemireiz ringraziamo Zao ma anche tutto l'ufficio stampa da Cardo che veramente hanno reso possibile questo confronto anche se al momento attuale la distanza che ci separa sono appena 30 chilometri vero Emanuele? Sì abitiamo vicino Roberto quindi sai per noi potevamo farlo anche faccia faccia a questa intervista comunque non sarebbe il primo perché diciamo mi hai onorato di presenziare la tua festa da Dio al ciclismo vero Emanuele? Sì sì è stata insomma la giusta chiusura dopo tanti anni 16 anni quindi posso essere più che soddisfatto è stato un piacere averti lì a presenziare tutta la festa insomma grazie grazie ma ovviamente non è la mia figura quella che interessa chi ci ascolta e quindi ritorniamo un pochino sul tema dell'intervista il tema dell'intervista proprio ripartendo dal tuo addio al mondo agonistico insomma hai saputo ben inserirti anche sull'ammiraglia perché insomma parlavano di te come di un tecnico molto attento ma anche allo stesso tempo molto vicino a Corridori molto motivatore ne parlavamo ieri sera nella nostra rubrica scatto e stacco con Riccardo Magrini ma sai è un ruolo completamente diverso e quando scendi dalla bici bisogna un po' staccare dall'essere ciclista questo non è facile senza dubbio perché pensare da ciclista non è mai ciò che è giusto per per aiutare i ragazzi insomma in gara è un ruolo un po' molto difficile sono stato fortunato sinceramente di che Mauro Gianetti e Maccina hanno creduto in me e mi è data questa grossa opportunità io sto cercando anno di anno in anno di migliorare cercare di apprendere sempre di più rubare un po' il mestiere a chi è di a molti anni nell'ammiraglia con me quindi Baldato Fabrizio Guidi che comunque è compaesano anche nostro e quindi in primis Maccina che è il nostro diciamo mentor il nostro team manager che è colui che insieme a Gianetti ha permesso questo a me e anche permette insomma di prendere corridori validi perché comunque abbiamo un parterre non indifferente squadra da una parte è facile da una parte difficile gestirla questa situazione comunque bravi ai nostri capi che ci permettono di lavorare con con degli atleti di altissimo livello e non è per niente nulla scontato questo no però ovviamente la superiorità di Tadej Pogacar in Andalusia era davvero davvero eclatante a fronte a fronte di avversari comunque che ce l'hanno messa tutta per cercare un pochino di rendergli dura la vita e uno su tutti i mass che insomma dalla Lombardia dello scorso anno si dimostra davvero un avversario molto coriaceo però la bella novità è stata anche quella di Tim Vélez un corridore che non lo scopriamo certo quest'anno nel vostro team però in Andalusia altre volte è capitato di far bene insomma ci potevano essere diversi punti di domanda sembrava che alla lotto non legasse troppo con Benoit con Benoit con Thys Benoit insomma ha fatto una bella vittoria ha fatto una bella vittoria ma noi siamo molto contenti questo sinceramente non è scontato come può sembrare in Andalusia c'era una squadra veramente di alto livello la Bahrain era quasi non posso dire quella primissima squadra aveva la stessa c'era Mas ma la stessa Ineos cioè erano squadre veramente attrezzate non eravamo di meno perché comunque Tadei finalizzava il lavoro che la squadra svolgeva ci hanno attaccato in tutti i modi possibili immaginabili molte volte la tv si collega quando le situazioni pericolose e situazioni di pericolo con la classifica eh sono già un po' assestate e solo questo solo grazie al lavoro di 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 degli altri eh chiamiamoli così eh chiamano i gregari se si può dire ma quasi quasi sminuirli perché comunque avevamo un parterre anche lì di primissima eh livello stesso Wellens poteva tranquillamente l'interesse del capitano eh in un'altra squadra ma nonostante questo si è messa a disposizione fin da primi chilometri fin dal primo giorno e e e quando ha avuto l'occasione è riuscito subito a coglierla senza senza perderla poi eh l'ultimo giorno abbiamo provato con 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 Covi e lo stesso Tadei in prima persona si è messo là a fare l'azione decisiva e e l'ultimo uomo l'ha fatto Wellens per 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 Ale comunque che Covi che aveva lavorato eh in quattro giorni senza mai di sparmiarsi un mese quindi questa è la forza del gruppo che abbiamo qua si è creato un gruppo affiatato tutti per uno poi giustamente la superiore di Tadei mette tutti al loro posto per virgolette se si vuol dire ma questo non Tadei non è uno anzi eh molte volte se può se potesse farebbe vincere tutti i compagni escluso lui quindi è un po' così di Tadei ehm giustamente eh la squadra quando abbiamo in Tadei in squadra eh si gira intorno a lui perché è quello che dà eh il cento per cento delle garanzie però come ho detto in corridori abbiamo corridori di primissimo piano ma anche gli stessi che 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 mettevano le condizioni i quattro diciamo finali che avevamo Maika avevamo Wellens avevamo Bennett eh per lavorare nella parte finale Covi ma in primis Bax e Novak che hanno tirato tantissimi chilometri quelli sono sono stati la la base del successo insomma in Andalusia e un episodio c'è stato mi sembra un momento in cui chi era? Team Wellens a tirare e sembra che Maika lo abbia un pochino redarguido di fare un ritmo più basso può darsi in un tratto di quando sono lì in queste situazioni sai per Tadei il ritmo e va sempre bisogna farlo sempre più forte forse per lui però si è visto in molte situazioni comunque che quando tiravano nel finale Wellens e Maika rimanevano veramente in pochi e quindi la dimostrazione che la condizione era buona per tutti e poi mettevano nella condizione Tadei di fare quella l'ultimo diciamo eh l'ultimo scalino per andare via insomma era un po' quello eh ciò che piace a Tadei i ragazzi lo sanno e quindi cercano di fare il massimo poi eh sono situazioni di gara quando sono a tutta ragazzi c'è sempre un po' una situazione di di nervosismo ma è un nervosismo costruttivo insomma. Ecco e allora veniamo eh qualcuno ha potuto pensare anche che davvero ci fosse l'unplay in cinque vittorie su cinque tappe e se da una parte bisogna rendere merito a Omar Freyle che veramente ha fatto un grandissimo finale forse un pochino bisognerebbe anche dire che Alessandro Covi tenendo anche proprio quella posizione nel secondo posto forse un pizzico di recriminazione sul fatto di essere partito leggermente presto un temperamento molto difficile da affermare. Sì ne avevamo un po' parlato con Ale eh abbiamo visto un video di del stesso arrivo che aveva vinto Lobato nel duemilaquindici l'abbiamo analizzato prima di partire nei minimi dettagli eh abbiamo io con Autman e con con Ale abbiamo un po' cercato di capire qual è il punto migliore. Effettivamente avendo un Wellens ancora davanti che lui che doveva ancora finire il lavoro si aspetta qui cinquanta metri in più sicuramente eh potrebbe potrebbe essere stata una vittoria in più però mh sono situazioni di gare eh in altre situazioni eh partì a parte in quel modo lì è il momento giusto sorprende vince sai sono situazioni attimi di gara io con Ale l'anno scorso eh ho avuto la soddisfazione di vincere eh a Murcia che era la sua prima gara della carriera e di di in Andalusia di di ribadire subito una seconda tappa proprio ehm cercando per virgolette di 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 spingerlo ad anticiparlo anticipare la volata in entrambi i casi è andata bene in questo in questo caso abbiamo sbagliato per un po' però eh perdere la fraile ci sta è un è un corridore di altissimo livello ha le stesse caratteristiche di di Covi quindi si può vincere si può perdere la squadra è stata soddisfatta comunque più che soddisfatti e di di specialmente di Covi che comunque veniva da Murcia aveva fatto Andalusia aveva fatto Haen e dopo un giorno solo era partito con Andalusia tirando tutti i giorni sempre per i capitani non tirarsi mai indietro quindi eh questa è la una dimostrazione della sua ottima condizione è un è un secondo che per noi in squadra vale come un primo. E poi bisogna dire che è un pochino la peculiarità il DNA la caratteristica la firma di Covi correre a questa maniera esalta sul sulla marmolata e forse eh da lì va a tingere quelle motivazioni in più che gli consentono molto spesso come lui riesce di fare la differenza questo è chiaro. Ma eh Ale ti dico è un corridore secondo me che ancora si deve ancora scoprire ancora a diversi margini ehm ha delle caratteristiche del ciclismo del ciclista moderno perché comunque ha la sparata tiene in salita e se non a caso se no non vinci sulla marmolata facendo un attacco come ha fatto. Quindi eh già dai primi anni avevamo visto non arrivava la vittoria però eh già dai primi anni aveva fatto quinto a San Sebastian cioè eh sono gare dove dove ci vuole bisogna avere delle qualità e Ale l'ha dimostrato e Alessandro sta crescendo sta maturando sta facendo un percorso di crescita eh anno per anno e sono convinto che quest'anno farà ancora poi lo scalino in più e spero per noi e anche per l'Italia che ci possa portare delle soddisfazioni maggiori. Fai bit stop nei B-Point B-Car. Competenza, efficienza e cortesia. Siamo a Cascina, Pisa, Santa Maria, Monte, Empoli e Ponsacco. La qualità si crea ogni giorno con un buon gioco di squadra. B-Car, qualità, passione e innovazione. Le nostre carrozzerie multiservice ti aspettano a Cascina, Pisa, Santa Maria, Monte, Empoli e Ponsacco. TG di Genco Leonardo. Ogni soluzione a portata di mano. Costruzioni, ristrutturazioni, demolizioni. Richiedi un preventivo con possibilità di accesso a bonus fiscali. TG di Genco Leonardo e a Cascina, Pisa. Chiama subito 349 4107 598. Dal 1920, Lucarelli Piante. Vendita e produzione di piante ornamentali e da frutto. Progettazione, realizzazione e manutenzione giardini. E allora chiudiamo con un'ultima domanda a Manuele in prospettiva per farci entrare un pochino anche noi nelle pieghe dei vostri animi, dei vostri sentimenti, ma soprattutto dei grandi protagonisti. E qui siamo ancora a parlare di poca, certo. Insomma, è scontato che Tadei correrà la Pariginizza e non correrà la Tirreno Adriatico. La Pariginizza si troverà di fronte a Vinzgaard. Per quanto riguarda la formazione della Giambovisma, si parla appunto di una partenza un pochino più tranquilla per quanto riguarda due delle sue punte che rispondono al nome di Vinzgaard e anche Roglic, che difenderà i colori della formazione gialla al Giro d'Italia. Ma secondo te ha forti motivazioni Pogacar per cercare un pochino questo testa-testa sulle strade che da Parigi porteranno poi sulla Costa Azzurra? Ma, allora, la sfida l'abbiamo già vista l'anno scorso da Tirreno Adriatico, dove Tadei ha vinto, Vinggar ha fatto secondo. Sono corridori che penso che non si tirano mai indietro, il stesso Vinggar quando si è presentato, insomma, ha fatto secondo a Tirreno, non è che ha fatto un cattivo risultato. Quindi sicuramente si daranno battaglia, sia se sarà sulle strade italiane o francese, dove sarà, sono convinto che si daranno battaglia. La squadra Lotto Jambo, sappiamo tutti, è una delle squadre più attrezzate nell'ambito World Tour, quindi sa gestire bene i corridori anche loro, come un po' tutti ormai, tutte le squadre World Tour gestiscono corridori, quindi sicuramente arriveranno ai loro appuntamenti in forma, come hanno sempre dimostrato. Roglic è passata un'operazione alla spalla, ne so qualcosa perché sto uscendo ne ora, anch'io ho fatto un'operazione in ottobre, inizio ora a stare un po' meglio, la stessa identica operazione per l'allustrazione alla spalla, quindi so che un po' di tempo ci vorrà, da meno tre mesi, senza toccare i bici, è dovuto stare, quindi sicuramente questo è probabile che arriverà alle prime gare non al 100%, come il suo solito fare di Roglic, che si presenta sempre in ogni gara che partecipa al 100%, è possibile che alle prime gare sarà un po' indietro, ma questo sono convinto che quando poi arriverà i suoi obiettivi dell'anno sarà come sempre protagonista. Allora, chiudiamo il cerchio, ricordando che quell'intervento di cui hai avuto bisogno riguarda un po' i postumi di quella caduta, se non sbaglio quella domenica 9 luglio 2017, quella caduta che coinvolse sia te che poi anche porte in altre circostanze, era la stessa tappa, e quindi perfetto, ho spiegato chiaramente la dinamica di quella che può essere poi il ritorno alle competizioni, anche se tu ce l'hai spiegato ovviamente in una figura da tecnico in questo caso, però ci siamo sentiti d'inverno, mi ha raccontato il fastidio e i problemi riscontrati. A proposito di fastidio e di problemi, ci potrei dire credo a che punto sono, quanto è lontana la risoluzione di questa tendinita, si è parlato di Juan Ayuso. Ma sta facendo un percorso riabilitativo per rientrare alle gare il prima possibile, ma in buone condizioni, inutile a frettare i tempi, Juan è giovane, ha davanti a sé, penso tutta una lunga carriera, quindi inutile a frettare, sappiamo le sue qualità immense, quindi ha avuto un piccolo topo, ma niente di grave, niente di particolare, quindi inutile forzare i tempi, rientrerà penso a breve, però è bene che rientra al 100%, per noi è un pilastro della squadra insieme a Tadei, io l'anno scorso ero con lui, ha potuto il piacere di essere là alla vuelta, vedere un ragazzo di neanche 20 anni da compiere, salire sul palco, il podio e fare terzo, penso che sia una cosa mai vista nel ciclismo, quindi penso che è importante che rientri al 100% e poi avrà tutto il tempo per dimostrare ciò che ha fatto già vedere l'anno scorso. Allora speriamo sabato di vederti spoggere dall'ammiraglia, non so se sarai alla guida o meno all'OMLO, vero? Io sarò alla guida, prima volta sul pavè come direttore in macchina, quindi sarà un'esperienza nuova che per me, Marco, sarà al fianco per parlare con i corridori, essere più concentrato per poter spiegare le varie dinamiche in gara, insomma percorsi, è un po' difficile quando sei lì, il belgio lo conosci o lo vivi, se no veramente sembra di essere sempre nel solito punto. Trentin sarà chioccia e punta insieme a chi? A Team Bellens? Abbiamo Team che sta bene, l'abbiamo visto, insomma, e corre in casa, per lui sono un po' come per noi correre a Rezzo quando eravamo dilettanti, nell'Aretino, per loro vivono lì e quindi sono le forse di casa. Matteo è un belga ormai, è diventato belga, bella esperienza ormai che ha, non si insegna niente a Matteo, ha una grandissima esperienza in Belgio e quindi saranno i nostri due punti, ma abbiamo comunque anche altri, abbiamo i fratelli Oliveira, che stanno anche loro crescendo molto bene, sono in forma. Dai, andremo sicuramente per far bene, sicuramente per prendere un po' confidenza, ma per far bene, senza dubbio, abbiamo Bax, che è un olandese, abituato a correre anche lui là. Quest'anno ci siamo un po' più rafforzati per la parte belga. Purtroppo non abbiamo Irci, che viene da un infortunio a Vito, all'Algarve, ci mancherà per la parte del belgio che verrà, che era un'altra petina importante per noi, però cercheremo comunque di farci valere, sono convinto. ci troveremo fino all'ultimo. Ne siamo certi, allora buon lavoro e grazie per essere stato con noi, Manuele. È stato un piacere, grazie a voi.